Dopo più di due anni dal sisma del 2016 arrivano le SAE, anche a Petriolo, sono 10 e saranno pronte a giorni. Nel piccolo comune del Maceratese la strada dell'invenduto non ha dato gli esiti sperati. Ora nell'area mancano le opere di urbanizzazione per l'accesso. A Petriolo c'era poco invenduto e quel poco invenduto nessuno ha presentato, non ha partecipato ai bandi. Per cui è rimasta la necessità di trovare una sistemazione per alcuni nuclei familiari. Inizialmente si sono sistemate in maniera autonoma, provvisoria, alcuni e alcuni altri abbiamo accolti nelle strutture dei moduli a un container. Per cui abbiamo necessità di trovare un'area che non fosse troppo lontana dal centro, di superficie adeguata. Per ospitare il numero delle casette, il numero di SAE che necessitavamo. E con un benestare dei proprietari che non si fossero posti, poi magari facendo perdere tempo anche nella fase di esproprio e compagnia bella. Le casette sono state ultimate, sono state allacciate tutti i servizi, acqua, luce e gas. Stanno ultimando le imparamentazioni intorno alle casette e entro questa settimana saranno definitivamente ultimate. Nel borgo di 2000 anime ci sono ancora 120 persone con il contributo di autonoma sistemazione. Anche qui il problema riguarda i precari della ricostruzione assegnati ai comuni. Noi siamo due anni dal momento in cui sono state fatte le prime assunzioni e ancora non abbiamo avuto nessun rimborso della spesa sostenuta. Finora tutto a carico del comune. Quel poco personale che abbiamo assegnato è diviso tra tante incombenze e il fatto che noi siamo già considerati cratere di serie B. Tutte le attività fatte a Petriolo sono state quasi totalmente fatte, svolte dagli uffici comunali. Tutte le messe in sicurezza, tutte le ordinanze, tutte le erogazioni del casse e manca eseguire questi lavori che non è competenza del comune, ma comunque il comune di supporto per la realizzazione delle SAE. È tutto in capo a quei pochi dipendenti. Già ne avevamo pochi e queste ulteriori risorse che ci sono state date, che ringraziamo comunque, perché senza di loro non avremmo potuto fare niente, non sono tantissime. E dividere il cratere tra serie A e serie B, francamente non credo sia la soluzione, perché i nostri terremotati hanno gli stessi diritti di quelli dei comuni più colpiti. Noi chiediamo che ci sia un po' più semplificazione. Sono quattro unità, ci stanno a fare le pulci su un fatto che alcune sono state spezzettate in due part time, ma se la spesa è quella che stiamo a guardare, tutti questi aspetti burocratici puramente formali.